Volete la videoricetta originale per preparare le pettole o pittule pugliesi? Sono palline di pasta lievitata molto morbida fritte nell'olio bollente. Impastate in una ciotola capiente la farina, il lievito sciolto in un po' d'acqua, l'olio, il sale e l'acqua frizzante, perché serve per far diventare soffice l'impasto. Lavorate per bene la massa per 10 minuti. Fate lievitare l'impasto per circa 2 ore. Se volete delle pettole ripiene, aggiungete il ripieno prima di farle lievitare. A questo punto, in olio ben caldo di semi di arachidi, friggete ogni pallina, tuffandola con l'aiuto di due cucchiaini, che ogni tanto bagnerete nell'olio perché l'impasto non si attacchi. Questo, se non siete pratici, è un ottimo consiglio. Nell'olio ben caldo, assumeranno la forma di pallotte leggere e soffici, chiamate appunto pettole. Et voilà, ecco le pettole o pittule belle calde fumanti. Vi basterà aggiustarle di sale e saranno pronte. Una vera delizia, amate da grandi e piccini, e apprezzate anche in tutta Italia. Sono veramente squisite. Per quelle dolci vi basterà condirle con zucchero a velo o vino cotto. Una golosità! Provatele e fatemi sapere. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video.